. Verissimo, Albano shock, ho pensato di farla finita. . Albano si confessa a Verissimo, il suo periodo buio. . Durante la puntata di Oggi di Merissimo Albano si è confessato alle telecamere di Silvia Toffanin, ricordando anche un periodo veramente brutto della sua vita, dove ha addirittura pensato di farla finita. . Precisamente, il cantante si riferiva agli anni 90, che sono stati per lui anni di grande dolore, in cui non aveva più certezze e vedeva la sua esistenza sgretolarsi giorno dopo giorno. . Il suo matrimonio con Romina Power era infatti terminato, e notava la sofferenza negli occhi dei suoi bambini, Albano, come ha dichiarato, si chiedeva quindi dove avesse sbagliato. . 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